è claudia col la bella claudia col attaccata dal maligno stavo su youtube guardavo facevo la promozione a uno dei miei ultimi video poi mi appare il video che sto qua commentando ed è intitolato il maligno voleva uccidermi ma dio mi ha salvata io questo video di claudia col ve lo metto come ligno riassunto di questo video così voi lo potete ascoltare nella sua interezza e liberamente commentare come sto facendo io io non capisco per quale motivo il maligno che sarebbe il diavolo il demonio satana lucifero abbia voluto aggredire claudia col c'è scritto così il maligno voleva uccidermi non capisco che cosa ci avesse il demonio contro claudia col non riesco a capire per esempio a me il demonio non mi ha mai assalito non ha mai tentato di uccidermi questo resta un mistero per me resta un mistero cioè il motivo per il quale ci sono alcune persone nell'ambito cristiano ci sono alcune persone che vengono attaccate dal 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 demonio e che si salvano grazie all'intervento divino e resta un mistero proprio non capisco non riesco a capirlo perché non so come faccia il demonio il diavolo come faccia fare certe scelte ripeto io non sono non c'ho mai avuto niente a che fare col diavolo non so perché non so perché non so perché beh in ogni caso quello che dice claudio colle è molto interessante parla di eventi strani gli eventi extrasensoriali ripeto tutto ciò sfugge alle mie capacità di comprensione può darsi che la mia mente sia limitata sì la mia mente sarà limitata però la mia mente limitata e dice che l'universo è infinito ed eterno sì sì la mia mente limitata limitata sostiene e l'ho già sostenuto in tantissimi video che l'universo è infinito ed eterno e invece ci sono ci sono delle menti molto molto menti molto potenti per esempio come la mente di del grande fisico il grande fisico che si chiama Carlo Carlo c'è un grande fisico che si chiama Carlo in questo momento non ricordo il cognome il quale dice che l'universo è immenso ma finito immenso ma finito si chiama Carlo non so per quale motivo mi sfugge il cognome perché è un cognome particolare è un cognome del tutto particolare è un cognome molto particolare va bene Carlo si chiama Carlo 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 c'è una resistenza nei confronti di questo cognome c'è una resistenza pazienza pazienza guardate che non è un sintomo di vecchiaia io ce l'ho sempre avuto queste forme di resistenza anche quando ero giovane quindi non posso pensare che si tratti di di Parkinson di Alzheimer no ce l'ho sempre avuto sono delle resistenze non so perché ah eccolo qua eccolo qua avete visto che prima di concludere il video mi è tornato in mente Rovelli si chiama Carlo Rovelli è un potentissimo fisico un docente universitario di fama mondiale di fama mondiale capito di fama mondiale deve avere una mente immensa illimitata infinita e lui dice che l'universo è immenso ma finito lui Carlo Rovelli che è un grande fisico con cattedra universitaria mondiale dice che l'universo è immenso ma finito io invece che c'è una mente limitata una mente limitata popolare plebea io invece ho sempre detto che l'universo è infinito ed eterno forse per questo che che il diavolo non mi vuole uccidere chissà perché beh in ogni caso in ogni caso io ho fatto questo video così voi potete vedere ciò che dice la bella Claudio Col che ricordo mi ricordo che una volta era una brava attrice e poi a un certo punto è stata attaccata dal diavolo e Dio l'ha salvata e dai ok cari amici ok visto che mi sono ricordato Carlo Rovelli si chiama e Carlo Rovelli dice che l'universo è immenso ma finito per forza che si chiama Rovelli uno che si chiama Rovelli anche se c'è la cattedra universitaria che dovrà dire che l'universo è immenso ma finito e io sono Serafino Massoni autore di tante tante opere e questa è la mia ultima opera ma vedrete che prima di morire altre opere di Serafino Massoni appariranno ok ok ok